Il gatto che abbaia, donna Joe Napoli e Mary Kane, illustrato da Tamara Petrusino, Datton Children's Books, New York. Benvenuti in questo e-book bilingue bimodale. Questo e-book è stato adattato dal testo e dalle illustrazioni di Rocky the Cat Who Barks, scritto da donna Joe Napoli e Mary Kane e illustrato da Tamara Petrusino. È stato pubblicato nel 2002 dalla Datton Children's Books di New York. Ai nostri nipotini, a Ryan e Jill, con amore. Rocky viveva in una piccola casetta, assieme a nonna Nini. Nonna Nini amava sedersi alla luce del sole, che scaldava le sue dita ossute e nodose. I suoi occhi non vedevano molto bene. Così, la luce del sole la aiutava quando lavorava a maglia. Rocky sedeva i suoi piedi. Rincorreva sempre i gomitoli di lana in giro per il salotto. Spesso stava seduto, felice e beato. La loro vita era tranquilla. L'unico rumore nella casa era l'abbaiare di Rocky. Quando nonna Nini diventò troppo vecchia, dovette trasferirsi dal suo figlio, che viveva in un appartamento, dove però non erano ammessi i cani. Così Rocky finì a casa dei due piccoli mostri. I piccoli mostri facevano le boccacce, lanciavano mattoncini, urlavano. Quando le loro mani grosse gli arrivavano vicino, Rocky scappava. Ma la cosa peggiore erano i cinque gatti, che vivevano nella casa con i piccoli mostri. Miscia, la mamma gatta, grossa e cattiva. Cappuccino, aveva un pelo così folto che assomigliava ad una pecora. Crystal Kitty, dai capelli lunghi. Kelly, l'unico più piccolo di Rocky. E Latte, dagli occhi blu, ma proprio blu. Quando Rocky viveva con nonna Nini, nessuno gli diceva mai cosa fare. In effetti, lui dirigeva nonna Nini piuttosto bene. Ma quando Rocky camminava tra i gatti, pavoneggiandosi e abbaiava, loro inarcavano la schiena e si bilavano. Lo accerchiavano, mostravano gli artigli e sputavano. Rocky allora piagnucolava e si rotolava sulla schiena. I gatti correvano e Rocky se la svegnava dietro la poltrona, nascondendosi con la coperta speciale che nonna Nini aveva cucito per lui. Ma i gatti facevano a Rocky tante altre cose. Miscia, infatti, lo spingeva via e mangiava dalla sua ciotola fino all'ultimo boccone. Così Rocky non aveva nulla da rosicchiare, se non duri biscotti per cani. Rocky aveva un maglione rosso con il collo a tartaruga, ma Crystal Kitty ci rotolava sopra ed ovunque lasciava ciocche dei suoi capelli che puzzavano di pesce. Rocky aveva un letto veramente carino che si era portato con sé. Ma Latte, dopo avergli lanciato un gelido sguardo, gli lo aveva rubato. Kelly, il piccolo, mordeva il suo hamburger di gomma facendo dei buchi. Cappuccino, con i suoi artigli, aveva colpito il guinzaglio di Rocky riducendolo a brandelli. Ogni volta che Rocky emetteva il più piccolo mugolio, i gatti lo fissavano con occhio truce. Rocky trascorreva molto del suo tempo dietro la poltrona, in silenzio. Tutto quel che aveva era la copertina che nonna Nini gli aveva regalato. Il fine settimana, assieme ai gatti, c'erano i piccoli mostri, a casa tutto il giorno. I piccoli mostri erano rumorosi. Rovesciavano i mobili e correvano con i pattini in giro per la casa. Spruzzavano ovunque con le pistole ad acqua ed ondolavano aggrappati alle tende. I gatti giocavano insieme, senza prestare attenzione ai piccoli mostri. Ma Rocky era triste e spaventato. I gatti si divertivano gli uni con gli altri. I piccoli mostri si divertivano. Ma Rocky non si divertiva da tanto tempo. Un giorno i piccoli mostri decisero di giocare a mamma casetta. Misero una montagna di vestitini al centro della stanza sul pavimento. Uno di loro prese Kelly, l'altro prese Miscia. Uno dei piccoli mostri mise a Kelly un vestitino. Poi le legò una cuffietta di pizzo sotto il mento. L'altro piccolo mostro mise una giacca a Miscia e degli stivaletti morbidi alle zampe. Quando Miscia cercò di togliersi gli stivaletti, un piccolo mostro lo afferrò per il collo. Sempre tenendo i gatti a penzoloni tra le mani, entrambi i piccoli mostri corsero, risero e saltarono sulle poltrone. Kelly e Miscia mi aggolavano forte. Rocky non sapeva cosa fare. Così se ne stava seduto tranquillo. Aveva paura. I piccoli mostri avvolsero Kelly e Miscia in piccole coperte. Poi aprirono uno zaino per infilarci i gatti. Crystal Kitty, Cappuccino e Latte guardavano la scena dal davanzale. I loro occhi erano sbarrati. Muovevano le code e a scatti. Miau! si bilavano Kelly e Miscia in coro. Ma i piccoli mostri non ci badavano. Ad un tratto, Rocky si alzò tremante. cominciò a saltare per tutta la stanza e abbaiò forte come non aveva mai fatto in vita sua. Il suo abbaiare risuonò per tutta la casa. ed ecco che la mamma dei piccoli mostri arrivò correndo. Li rimproverò e tolse i vestitini a Kelly e Miscia. Rocky tornò dietro la poltrona e si rannicchiò sotto la sua copertina. Il giorno dopo i piccoli mostri andarono a scuola. La casa era tranquilla. I gatti erano seduti qua e là. Ma Rocky sentiva tutti gli sguardi puntati su di lui. Latte camminò lentamente attraverso la stanza e si sedette vicino a Rocky. Lo leccò. Qualcosa di strano stava accadendo. Rocky ricambiò le leccate. Più tardi Miscia stava sopra la sua ciotola invece di stare sopra quella di Rocky. Con un colpo di zampa lanciò a Rocky un grosso pezzo di crocchetta per gatti. Odorava di pesce ma non era così male. Rocky lo mangiò. poi cristalchitti e cappuccino travolsero Rocky con un gomitolo. La lana gli ricordò i bei vecchi tempi. a Rocky piaceva. Kelly se ne stava distesa al sole senza fare nulla. Rocky si stese vicino a lei. In quel momento si sentì un po' come quando a casa di nonna Nini si sedeva ai suoi piedi baciato dalla luce calda del sole. quella notte Rocky si leccò le zampe e si pulì il muso come fanno i gatti. Poi sbadigliò enormemente proprio come i gatti. da quel giorno Latte Kelly Cristalchitti Cappuccino Misha e Rocky giocano insieme mangiano insieme e dormono insieme. Marocchi è l'unico gatto che abbaia. Ringraziamo le autrici e l'illustratrice per la gentile concessione di questo testo e delle immagini. la storia è segnata in LIS lingua dei segni italiana da Gabriele Caia docente di LIS all'Università Ca' Foscari di Venezia. Il testo è stato tradotto in italiano da Noemi Piva studentessa di lingue LIS e lingua russa all'Università Ca' Foscari di Venezia. Noemi ha inoltre prestato la sua voce. Le edizioni ebook e video sono state realizzate da Riley Collins ex alunno Lily Tobias e Julian Turner studenti dello Swartmore College. Il progetto è stato realizzato sotto la guida del prof Jean Myrus della Golodet University e della professoressa Donna Gio Napoli dello Swartmore College. Fa parte della serie RISE RISE Reading Involves Shared Experience Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.